Riuscendo ad avere un'alternativa al suo tiro da tre. Aumenta l'aggressività della sua difesa adesso Milano, mentre Cobbins riceve, va da Cuono che si alza per la tripla e la banda a bersaglio, la Germani-Brescia si sblocca dalla lunga distanza. Luau Cabarrot, taglio da parte di Achele, si torna in punta da Cuono, Piccarola con Cobbins, Cuono a stacca, l'area pittorata! Canestro più fallo subito, ancora David Cuono! Sì, stanno provando ad attaccare Napier sia su Piccarola che Spalacanestro, probabilmente Spalacanestro non è un grandissimo mismatch, non c'è un grande vantaggio tra Cornu. Torna da Cuono, solo sette secondi per andare al tiro, fin qui nessun vantaggio particolare, preso da Brescia, poi Cuono attacca, Todud! Lo batte, non c'è aiuto con l'area sguarnita, l'inza per la Germani, dall'altra parte Luau Cabarrot non riesce a replicare, rimbalzo della valle, lanciato Cuono che va in campo aperto! La ciliegina sulla torta la mette David Cuono!